Ha minacciato azioni legali il presidente della provincia di Peser Urbino, Giuseppe Paolini, dopo la delibera della programmazione della rete scolastica da parte della Regione Marche, che alla luce del decreto 1000 proroghe aveva potuto risparmiare sul taglio delle autonomie scolastiche passando da 19 a 16. Preservata qualche autonomia in più nelle altre province, non in quella pesarese che vede sacrificate 4 autonomie scolastiche, costringendo a pagare il prezzo più salato Macerata Feltra e Mercatino Conca che vedono loro malgrado la fusione dei rispettivi istituti comprensivi. Io ho lavorato sulle direttive che ha dato la Regione di tutelare le scuole in aree marginali dell'entroterra e di cercare di aggregare delle scuole che potevano essere vicine o che presentavano dei problemi. Abbiamo lavorato intensamente su questo, ho fatto incontri e incontri con tutti i sindaci dell'entroterra prendendomi qualche rimprovero da qualcuno, però alla fine avendo capito il problema c'è stata una massima collaborazione. Poi è uscito fuori dal 1000 proroghe che sarebbe diminuito ed è stato portato da 19 a 16 nelle Marche la chiusura di alcune direzioni didattiche. Di questi noi avevamo proposto le nostre quattro andando proprio su quello che c'era stato chiesto e sono stati tolti. Macerata è passata da 9 a 6, Ancona da 3 a 2 mi sembra e Pesaro sono rimasti quattro, ma quello che mi dà fastidio è che hanno impedito di aggregare insieme il Cipia con l'Agrario, a Pesaro l'hanno impedito e invece hanno permesso a Scolipiceno è fermo di farlo. Ma quello che mi dà fastidio, che mi fa veramente gridare è che sono andati anche contro una direttiva che avevano dato loro, che era quella di tutelare le scuole marginali, le scuole dell'entroterra. Siamo riusciti anche con il sindaco di Apecchio, con l'Avanna, con tutti i sindaci dell'entroterra a tutelare questa cosa qua, ma la provincia è entrata e qui entra la gamba tesa, è andata ad aggregare Mercatino Conca con Macerata Feltrile. Non terendo conto della zona svantaggiata che ha, una zona di confine, considerando che Mercatino Conca e il sindaco di Apecchio, ci siamo visti tante volte per parlare di questa cosa, una zona che ha subito anche una scissione perché alcuni paesi sono passati in Romagna, era la zona che doveva essere secondo me in quel momento ipertutelata. Invece no, non è interessato questo e hanno deciso questo. Ecco, questa è la cosa che secondo me mi fa male, mi fa male perché io sono un sindaco che viene dall'entroterra, un sindaco di un piccolo comune e come sempre la tutela nei confronti dei piccoli comuni a parole c'è sempre, a fatti non c'è quasi mai.